Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla al mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono mascarpone, burro morbido, uova, zucchero, farina, aroma di vaniglia, cioccolato e granella di nocciole per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il mascarpone, il burro, azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 3. Aggiungiamo le uova, azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 3. Aggiungiamo il bimbi per 3 minuti. Aggiungiamo il bimbi per 3 minuti a velocità 3. Trasferire il composto in una ciotola, riporlo in frigo per almeno un'ora. Successivamente riempire una sac a poche con il beccuccio a stella. Trascorsi il tempo abbiamo ripreso l'impasto, l'abbiamo trasferito in una sac a poche con il beccuccio a stella. Adesso formeremo dei filoncini da 5 centimetri. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 15-20 minuti circa. Abbiamo sciolto a bagnamaria il cioccolato fondente, glassiamo i biscotti. Riposizioniamoli sulla carta da forno e spolverizziamo con la granella di nocciole. Biscotti di frolla al mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!